La CIA, agricoltori italiani, sezione Molise, in mobilitazione a Roma con lo slogan Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri, non togliettici il futuro. Le motivazioni della mobilitazione sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa nella sede CIA del Molise. Saranno 5.000 a muoversi dal Molise verso Roma. Ha indetto per il 26 una mobilitazione nazionale ai fini di far presente quello che è lo stato in cui versano tutto il comparto agricolo e tutte le aziende che ovviamente fanno capo allo stesso comparto. È un momento difficile per tutte le imprese produttive, per tutti i settori produttivi del comparto agricolo, partendo da quelli che sono gli operatori delle produzioni zootecne, quelli che sono ovviamente le produzioni vitivinicole e le problematiche legate anche a quelli che sono le difficoltà in temi di fauna selvatica. Le nostre richieste sono un attenzionamento particolare a tutto il mondo agricolo. È una richiesta di intervento immediata, efficace ed efficiente su tutti i punti di vista, considerando quelle che sono le reali difficoltà che tutte le imprese agricole stanno vivendo e considerando che man mano passa il passare dei giorni le aziende continuano a chiudere. Circa 5.000 è il numero nazionale assegnato a questa mobilitazione, quindi in 5.000 agricoltori manifesteranno la propria difficoltà e la propria carenza di reddito che stanno vivendo nell'ultimo periodo.